Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi alla memoria francescana di San Leonardo da Porto Maurizio. San Leonardo nacque a Porto Maurizio, odierna Imperia, in Liguria, il 20 di dicembre del 1676. Ricevette un'ottima educazione cristiana da parte dei genitori e, ancora giovane, andò a Roma, ospite di uno zio, per completare gli studi. Durante il corso degli studi si sentì inclinato alla vita religiosa e manifestò il suo desiderio di lasciare il mondo, ma lo zio si mostrò contrario e, poiché il nipote insisteva, lo cacciò di casa. Grazie a Dio riuscì ad entrare tra i padri francescani e, dopo il noviziato, iniziò gli studi per diventare sacerdote. Ordinato sacerdote si diede al ministero della predicazione, manifestando il suo zelo apostolico in modo tutto particolare nelle missioni tenute al popolo. Le sue parole producevano nelle anime i più salutari effetti. Numerosissime furono le missioni da lui predicate, ed è per questo che per 44 anni continui lo vediamo correre in ogni parte d'Italia. Il Lazio, la città di Roma, la Toscana, l'Emilia, le Marche, la Campania, la Corsica furono i principali campi del suo apostolato. Dovunque conduceva Dio i peccatori, confermava i buoni nella retta via e guidava i ferventi alla santità. Si racconta che in una città del Lazio si incontrò un giorno con un altro famoso predicatore, San Paolo della Croce, il fondatore dei passionisti. Si doveva tenere la predica al popolo e tra i due nacque una contesa. San Paolo voleva a tutti i costi che la predica la tenesse San Leonardo e San Leonardo voleva risolutamente che la predica la facesse San Paolo della Croce, contesa di Santi. In quell'occasione la spuntò San Paolo della Croce e la predica la dovette fare il nostro San Leonardo. I temi preferiti della sua predicazione furono i novissimi, la devozione alla Madonna e soprattutto la passione di Gesù. A Roma tutte le persone più ragguardevoli accorrevano ad ascoltarlo e più di una volta furono presenti alle sue prediche oltre venti cardinali e lo stesso Sommo Pontefice Benedetto XIV. A lui si deve la grande diffusione della pratica della Via Crucis che egli ideò e istitui in ben 572 luoghi. Mentre predicava le missioni nelle montagne del Bolognese, dalle parti di Monghi d'Oro, nel 1751, ebbe ordine dal Papa di ritornare a Roma prima della fine di novembre. Obediente come sempre, benché malaticcio, il 15 del mese si mise in viaggio e giunse a Roma la mattina del 25, ma era moribondo. Dopo poche ore volava al cielo. Benedetto XIV all'annuncio della sua morte esclamò Abbiamo perduto molto, ma abbiamo acquistato un protettore in cielo. Fu canonizzato dal Papa Pio IX il 29 di giugno del 1867 e Pio XI, 17 marzo 1923, lo proclamava patrono delle missioni popolari. Da San Leonardo impariamo ad amare e praticare il più esercizio della Via Crucis. Cerchiamo di farlo non meccanicamente, ma meditando in cuor nostro le sofferenze di Gesù. Da questa meditazione impareremo due cose, la bruttezza dei nostri peccati e la grandezza dell'amore di Dio per noi peccatori. Scriveva San Leonardo Con tutta umiltà, in ginocchio, mi sia consentito di indicare a tutti i prelati, ai parroci, ai sacerdoti e a tutti gli altri ministri di Dio che l'auspicata medicina è alla portata di tutti, nella maggioranza dei casi, ed è il più esercizio della Via Crucis. Se per lo zelo e l'interessamento del clero tale pratica di pietà sarà istituita in tutte le parrocchie e chiese, essa diverrà una validissima difesa contro il dilagare del vizio e ricoprirà di grandissimi benefici tutti coloro che mediteranno assiduamente sui dolori e sull'amore di Cristo Signore. La frequente meditazione sulla passione di Cristo dà lumi salutare all'intelletto, fervore fattivo alla volontà e sincera compunzione al cuore. Ho constatato quotidianamente e toccato quasi con mano che il miglioramento dei costumi dei cristiani è condizionato dalla pratica del più esercizio della Via Crucis. Tale pia pratica, infatti, è un antidoto per i vizi, un freno alle passioni, un incitamento efficace a una vita virtuosa e santa. Se terremo vivamente presente davanti agli occhi della mente, come scolpita su tavole, la cerbissima passione di Cristo, non potremo non abborrire, in virtù dell'irradiazione di così intensa luce, le miserie e le debolezze della nostra vita. Anzi, ci sentiremo trascinati a rispondere con tanto amore alla carità di Cristo e ad accettare gioiosamente le inevitabili avversità della vita. Ebbene, cari fratelli e sorelle, tra gli sconvolgimenti della vita, per avere la forza di andare avanti, guardiamo a Gesù, meditiamo sulla sua passione e affidiamoci con tutto il cuore alla Madre nostra, Maria Santissima. Siano lodati Gesù e Maria.